Salve, è da un po' che non ci vedevamo in realtà, noi nel campionato di ginkane automobilistiche volevamo semplicemente augurarvi le buone feste, manchiamo da un po' di tempo sui schermi, questo è vero, però ritorneremo presto e questa è una promessa, ci sono tante belle cose che stiamo progettando e quando lo facciamo, lo facciamo sempre per voi, lo facciamo sempre in onore di spettacolo, lo facciamo sempre per dare la massima velocità a tutte le persone che ormai da tempo ci seguono ho appena ammirato nuovamente la macchina simbolo delle ginkane, il GT questo perché così come le auto, le ginkane sono a volte tardive ma sempre maliniche ed ecco, noi vi vogliamo augurare le buone feste proprio per questo, con la promessa che ritorneremo e quando lo faremo, lo faremo alla grande un caldo abbraccio a voi e alle vostre famiglie nel campionato ginkane automobilistiche un caldo abbraccio a voi e alle vostre famiglie nel campionato ginkane automobilistiche l'abbiamo riccapito a voi e alle vostre famiglie nel campionato ginkane automobilistiche